sì 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 ok bene ah al limite ti faccio segno sempre basso fate qualcosa e anche col piano il piano non lo vuoi di là? fino Peppe bravo bravo eh c'è partito un canale ah bevo lì però se vuoi e' il microfono ahahahahah ahahahahah oh ah 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.